Allarme e bomba a Roma al Ministero della Cultura in via del Collegio Romano. Intorno alle 11.30 si è diffusa la notizia di un'allarme e bomba immediata all'evacuazione dei lavoratori del Ministero che sono tutti qui intorno a via del Collegio Romano in attesa. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia di Stato, gli artificieri della Polizia di Stato che sono ancora al lavoro per verificare la congruità dell'allarme. Si parla qui fra le persone in attesa e preoccupate di una minaccia ricevuta dal Ministro Giuliano su Facebook qualche giorno fa. Ovviamente ancora questa ipotesi non è confermata. Abbiamo ascoltato un lavoratore, fra quelli evacuati, che ci ha rilasciato una breve testimonianza. Tu lavori dentro del Ministero, no? Cosa è successo? Ci hanno fatto evacuare per un'allarme e bomba. Siamo scesi subito e adesso aspettiamo indicazioni. Non hanno specificato nient'altro che questo? No, 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 solo questo. Non sapete quando rientra ancora niente? Insomma, dovete solo stare fuori? Sono detto però di rimanere qui in zona, quindi speriamo risolvano a breve. Qualche settimana fa alcune macchine della Polizia si sono allontanate da via del Collegio Romano, fra cui una degli artificieri. Segno forse di un ridimensionamento della situazione, anche se il clima di tensione rimane alto e l'allerta è sempre attiva.